Ciao ragazzi, oggi sono qui con un fumetto diverso Sto parlando di Tex Wheeler, come potevate vedere anche dal titolo Allora, Tex Wheeler, un fumetto diverso, nel senso che non l'ho mai portato sul canale Forse avevo fatto vedere qualcosa in qualche video acquisti, non ricordo Però, diciamo, nello specifico non vi ho mai parlato di qualche albo in particolare Allora, per fare una premessa, io Tex lo seguo da poco, da un annetto e mezzo più o meno Non lo seguo da tantissimo, come magari Diabolic, Topolino Che nonostante magari io per anni ho smesso di acquistare, però sono fumetti che conosco da quando sono piccola Mentre Tex è un fumetto che ho conosciuto di recente Quindi io acquisto il Classic Tex, seguo e il Tex Wheeler Il Classic Tex lo seguo, anche quello lo ho dall'inizio Perché, diciamo, un mio amico, che saluto, ciao Joe Mi ha regalato, è stato gentilissimo, mi ha regalato tutti i primi, la settantina, diciamo, di primi albi del Classic Tex E poi io ho continuato ad acquistarlo, ecco Perché comunque volevo scoprire il personaggio, diciamo, dalle origini E niente, quindi seguo queste due testate di Tex Ogni tanto anche quello della serie regolare Lo compro, però non lo compro proprio, diciamo, sempre Niente, Tex Wheeler, diciamo, quello che mi piace di più Che ho seguito dall'inizio L'unico che mi manca è il numero 0 Però dal numero 1 poi li ho tutti Siamo arrivati al numero 19 Fuga sul mare Con questa bellissima copertina di Dotti Come sempre è bellissima Devo dire, le sue copertine sono veramente uno spettacolo Mi piacciono veramente tantissimo Quindi abbiamo Soggetto e sceneggiatura di Mauro Boselli Disegni di Michele Rubini Copertina, come vi dicevo, di Maurizio Dotti E lettering di Luca Corda Allora, adesso io vi parlerò della storia di quest'album nello specifico Quindi suppongo che voi abbiate letto quelli precedenti se state guardando il video Anche perché sarebbe lunga da raccontare Ci vorrebbe un video veramente lunghissimo per raccontarvi dall'inizio Quindi vi dico solo che vi anticipo solo Cioè vi dico solo quello che era successo sul finale dell'albo scorso Perché poi si ricollega a questo Abbiamo trovato Tex nei guai Perché inseguito da un agente federale con tutti i suoi uomini Gli stava dando la caccia L'abbiamo trovato alla fine dell'albo scorso In compagnia di questa bellissima ragazza Che tra l'altro lo aiuterà a scappare all'inizio di quest'albo E alla fine anche dello scorso si vedeva Perché diciamo temporeggerà un po' ad aprire la porta E questo farà sì che Tex dalla finestra riesca a scappare agli agenti federali Che sono andati a bussare alla porta Solo che cosa succede? Nel fuggire spara a uno degli agenti che lo stava inseguendo Colpendolo a un braccio Questa cosa lo fa riflettere molto Perché comunque lui non vuole mettere in mezzo persone innocenti Non avrebbe mai voluto fare del male a persone della legge E quindi questa cosa lo fa pensare molto Al che nell'albo precedente Lui era stato consigliato da un suo vecchio amico di fuggire Perché appunto questa gente federale che lo stava cercando Era veramente determinato a catturarlo E lui aveva detto che non voleva fuggire Però dopo questo evento di quest'albo Decide che forse è meglio cambiare aria per un po' Per evitare appunto di doversi ritrovare magari a fare del male A uccidere qualcuno E quindi decide di scappare Questo suo vecchio amico gli aveva anche dato un biglietto di una nave Per permettergli appunto la fuga La nave si chiama Mary Quindi troviamo in quest'albo proprio una vicenda Che si svolgerà completamente su questa nave Quasi completamente ecco A parte l'inizio e il finale Però la maggior parte della storia si svolgerà sulla nave Come possiamo vedere anche dalla copertina C'è Tex in sella al suo amato Dinamite Che salta appunto all'ultimo su questa nave Che sta per salpare Soltanto che per sua sfortuna Anche l'agente federale che lo insegue Aveva scoperto diciamo la sua idea Il suo piano Aveva sospettato che lui potesse cercare di fuggire Quindi si ritrova anche lui sulla stessa nave A dargli la caccia Poi troveremo altre vicende Che riguarderanno altri personaggi Che troveremo in questa storia Diciamo che lui si troverà poi ad aiutare A fare un favore anche al capitano E agli altri membri dell'equipaggio Diciamo cercando di catturare Dei ladri che si nascondono appunto All'interno di questa nave E nel mentre cercherà appunto Di sfuggire alla cattura Di questo agente federale Finché poi vedrete voi Come cosa succederà Come andrà a finire la storia Se appunto riuscirà a scappare Diciamo a cambiare area o meno Ecco Niente cosa vi posso dire Vi posso far vedere giusto qualche tavola Di questo Di quest'albo bellissimo Devo dire Dei disegni anche questi Molto molto belli Veramente veramente Stupendo anche la nave Bellissimi disegni anche della nave Devo dire che Anche i disegni di quest'albo Sono molto molto belli Adesso io cerco di farvi vedere Qualche immagine Cercando di non Spoilerarvi poi troppo dell'albo In caso non l'abbiate letto Qua questa tavola Potrete vedere la scena che vi dicevo Dove c'è Tex Che appunto Resce in sella a dinamite A saltare all'ultimo Diciamo a bordo di questa nave E niente Detto questo Io posso solo dirvi Che è La serie di Tex Wheeler Quello che a me piace di più Di Tex Diciamo la serie che mi piace di più Continuerò ad acquistarlo Fatemi sapere Se vi piacciono i video Su questo fumetto Così ve ne porterò altre Tanto io ogni mese Lo acquisto E Vi faccio vedere Ecco l'ultima cosa Vi faccio vedere L'anticipazione Della copertina Del prossimo numero Numero 20 Detto questo Io vi auguro Un buon proseguimento E ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi